L'adro recidivo questa volta finisce in carcere. David Colombara, 31 anni, vicentino pluri pregiudicato, è stato beccato con le mani nel sacco. Solo l'altro giorno era stato pizzicato dalla polizia con delle aree furtive d'Ernesi da scasso ed era stato denunciato per ricettazione. Questa volta però è finito il Sampio X di Vicenza. Ad immortalarlo le videocamere dell'ultimo negozio dove ha fatto razzia di zaini, profumi e rasoi per complessivi 1000 euro. Gli agenti delle volanti lo hanno notato in via Gorizia con ben quattro zaini in spalla, cosa che li ha ovviamente insospettiti. Fermato e aperti gli zaini hanno trovato l'area furtiva. A portarli al negozio del furto un pacchetto di fazzoletti con il nome dell'attività economica. Verificato che la merce sottratta era tutta di loro proprietà e visionato i filmati delle telecamere, il 31enne è stato arrestato. Arresto convalidato dal giudice. Semplice ma efficace la tecnica. Il 31enne è entrato nel negozio prendendo subito uno zaino, tra l'altro uno costoso. Lo ha riempito e poi uscendo dall'entrata ha lasciato lo stesso all'esterno, ripetendo poi l'operazione e riempiendo altri tre zaini. Ma questa volta gli è andata male.